Disfruttare di questo video, pieno di cosa mexicana, e lasciare un me gusta se il video è di suo aggrado. Andale! Allora, signor Lord, ci spieghi cos'è che vuole fare lei? Ah, no, aspetta, voglio registrare anch'io perché... Eh, registri, registri, si appropinqui, non cincischi, dai! Non cincischi, non sono io che cincischio, è OBS. Ah, OBS. Allora si installi un programma più reattivo che le vada comodo per registrare. Nel frattempo mi faccio una lampada abbronzante. Però è strano perché teoricamente tu dovresti bruciare vivo perché con tutti si specchi che... Ciao a tutti! Allora, 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 quello che vogliamo fare c'entra molto con il posto in cui sono in questo momento, ossia sopra il castello del signor Ikimoto. Andiamo a tutto questo per il castello, vai! Andiamo tutti sopra il castello. Andiamo, andiamo! L'altro giorno, parlando così a cazzo sul gruppo di Telegram, che ricordo è diventato pubblico, quindi non serve più il link per entrare, ma basta che cerchiate chiocciola Geek Battery Group e ci trovate. Siamo a 95, quindi in teoria, stando ai patti gli accordi, il signor Bimbo era 90, doveva far vedere uscire la faccia, ma non l'ha mai idea. Ma non è vero, lo avete visto voi. Non l'ha mai idea. Io devo far uscire la patata. Ifrink doveva uscire le tette il primo giorno di pioggia. Io devo far uscire una patata invece, quindi non può uscirla. Ciao Ifrink! Dunque, Ciao Casalizuki! Visto che questa sera il signor Ikimoto penso per problemi di connessione non ci sta. No, è per problemi che gli si è fottuta una ventola del dissipatore della CPU e quindi lui non potrà giocare. E noi ne approfittiamo. Quando i messicani sono in Nuovo Messico... I non messicani fanno un sombrero gigante sopra casa. Esatto! Cobblestone alle mani! Cosa serve? Una leva? Cos'è questo silenzio imbarazzato? Certo che è una leva! Io ho sempre la leva! Lo stai chiedendo a Bimbor? Certo che c'è una leva! Bimbor, tira la leva! Bimbor, no! Assi dimenticüm attraけ Grazie a tutti 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 Grazie a tutti